Ciao a tutti i caciotti, benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraft Ita Allora, oggi è domenica, dovrebbe essere domenica, quindi io vi auguro una buona domenica Spero state passando una buona domenica Allora, cosa voglio fare oggi? Allora, nello scorso episodio vi avevo già indirizzato a un possibile sviluppo di questo episodio Cioè il mob spawner Però prima di fare il mob spawner, perché devo fare dei preparativi Devo iniziare a scavare praticamente Fai tutto in un giorno mi è impossibile Quindi quello che farò è andare avanti con altri progetti nel frattempo E iniziare a creare gli spazi per poi fare il mob spawner E questo sarà l'unico metodo che mi consentirà di fare questo come lo voglio fare Altrimenti verrebbe troppo aspezioni per capirci della serie Un giorno, in un solo episodio, riuscirei a malappena a fare il buco Per dire così, e quindi sarebbe davvero poco carino la parte mia E quindi ho deciso di farlo così Allora, cosa andiamo a fare oggi? Allora, come vedete sto ancora farmando del legno di acacia E continuerò a farmarlo Continuerò a farmarlo perché voglio utilizzare il legno di acacia In contrasto con le planks di acacia Quindi acacia wood e acacia wood planks Per creare, attenzione, attenzione Non vi tengo sulle spine, perché l'avete visto nell'anteprima del video Teoricamente Non un porto Il porto lo faremo più avanti Perché anche lì magari voglio rendere un po' più carino Magari anche un più macroscopico Questo genere di cose qui Però una specie di banchina Ora, non proprio una banchina Una zona dove pescare Una vera e propria zona dove pescare Non so quanto legno mi servirà Quindi io continuerò a farmare E Nada